SIGLA Vedi quest'impronta? Non è di un lupo, è della bestia. Seguiamola. Ho ucciso tre pecore in sette giorni. Io lo so perché ti ha morso la bestia. Puzzi tanto che ti ha preso per un caprone. Così, se la bestia si avvicina alle pecore... ZACK! No, torna! Ehi! Perché ti nascondi? Ho già visto cani bastonati e bambini che hanno cercato di salvarli. Finisce sempre male. Lo sapevo, non sei tu che uccidi le pecore. Io non sono cattivo. Mmm, quanto puzi. Come sei bella. Ho deciso. Ti chiamerò Belle, ti piace? Sai, Andrè, sono contento. Credo di aver trovato un amico. È davvero? Sicuro di poterti fidare? Lei è come me cacciabestie pericolose. Ce ne sono tante su queste montagne. Un po' troppe. Non si spara ai cervi! Non ne avete il diritto! Come risolverà questo pasticcio? Organizzeremo una battuta. Prenderemo la bestia. Perché ti fermi? No! Vai, scappa! Spostati! Non sparare! È mia amica! Aspettate! Ti chiedo scusa, contenta? Ora parla anche al cane. Fermati! Ferma! E smettila! Grazie! Grazie a tutti.